Bene, sono le 6.01, iniziamo. Buongiorno a tutti, sono Eugine Dupaschie, la direttrice dell'Ortigia Business School, scuola di formazione manageriale nata a Siracusa. Questo è il terzo appuntamento di un ciclo di webinar sull'impatto economico della pandemia che stiamo vivendo, tenuta a quattro mani da Lucrezia Reiklin e Francesco Drago, economisti, cofondatori della nostra scuola. Allora, per chi si è collegato adesso, prima di darvi alcune informazioni tecniche sul seminario, vi chiedo di rispondere al poll che vedete visualizzato, che lascerò per un minutino durante la mia introduzione. Allora, la sessione di oggi sarà circa un'ora, una prima parte appunto condotta a quattro mani da Lucrezia e Francesco e un'ultima parte di una ventina di minuti per raccogliere le vostre domande. Vi chiediamo di porre le vostre domande attraverso il tasto Q&A che vedete in basso al vostro schermo, che sarà quello che controllerò per appunto porre ai relatori le domande. La sessione di oggi sarà registrata e sarà disponibile a partire da domani sul nostro sito. L'ultimo appuntamento di questo webinar sarà questo giovedì, sempre alle 18. vi aspettiamo per sentire le conclusioni sugli scenari che ci attendono. Benissimo, chiudo il sondaggio e vi faccio vedere i risultati. Allora, come valuti le misure di contenimento adottate fino ad oggi dall'Italia? Una vasta maggioranza dice positivamente. Come valuti le misure che si stanno discutendo in Europa a sostegno dell'economia dei Paesi membri, che è l'argomento principale di oggi? Direi che abbiamo una metà che lo valuta negativamente e un 42% che lo valuta positivamente. Bene, direi che è un buono spunto di partenza per sentire l'opinione di Lucrezia e Francesco, a cui do la parola. Grazie, a più tardi. Bene, inizio io. Grazie a tutti. Buonasera a tutti e grazie di nuovo per essere con noi. Oggi il titolo è la presentazione di strumenti comuni europei per affrontare i costi della crisi. Partiamo con l'Europa e la condivisione del rischio. Come abbiamo detto, vi sono in atto politiche necessariamente da parte dei governi per combattere gli effetti del Covid. Queste politiche includono sia costi diretti per la gestione sanitaria, ma soprattutto dal punto di vista economico, politiche fiscali a sostegno delle imprese e delle famiglie. Durante l'ultima presentazione abbiamo visto qual è il rischio che i Paesi corrono se non si interviene in maniera veloce. Ovviamente queste politiche creeranno molto debito e quindi il debito pubblico salirà per tutti i Paesi, ma il debito pubblico non solo salirà, ma salirà anche il debito rispetto al PIL, perché accanto a questo incremento del debito vi sarà anche una recessione. Le stime di oggi confermano anche l'entità molto grande delle recessioni. La situazione pregresta dei Paesi rispetto al debito è differente e quindi anche il rischio è diverso. E quindi le condizioni in cui i Paesi prendono debito sul mercato. Quindi da un punto di vista politico, se volete, anche economico, è giusto che il rischio sia condiviso, però non è chiaro che debba essere ovviamente condiviso anche il rischio che dipende dalla situazione pregressa. E ovviamente l'Italia da questo punto di vista sappiamo che è un Paese che ha un altissimo debito pubblico, almeno rispetto ai Paesi europei, agli altri Paesi europei. Quindi la discussione in corso è su come condividere questo rischio. Ci possono essere approcci diversi, oggi ne parleremo, ci possono essere prestiti condizionati a un programma ben specifico, e quindi chiamiamo prestiti concessionali. Possono essere trasferimenti temporanei oppure completa mutualizzazione del rischio con emissioni di Eurobond, questo a livello europeo. A questi va aggiunto anche l'azione della BCE, della Banca Centrale Europea. Perché pensiamo che, questa diciamo è un'opinione condivisa tra i commentatori e gli economisti, pensiamo che sia necessaria una risposta comune. La crisi del Covid abbiamo visto durante l'ultima presentazione, è uno shock enorme per l'economia che colpisce tutti i Paesi. Alcuni parlano di un rischio, diciamo di uno shock esimmetrico, nel senso che i Paesi vengono colpiti più o meno nello stesso modo. Probabilmente questo, stiamo vedendo nelle ultime settimane, non è così, sia perché il Covid sta colpendo in maniera diversa i Paesi, un po' per ragione esogene, un po' anche, diciamo, e quindi per sfortuna, se volete, un po' anche perché, diciamo, per ragione endogene, per la risposta, diciamo, di questi Paesi. In Europa vediamo che l'Italia e la Spagna sono maggiormente colpite, la Germania sembra essere colpita decisamente di meno. Ma comunque è uno shock che colpisce tutti i Paesi, forse in maniera diversa. Il virus quindi non ha confini. In un'area integrata come l'Unione Europea, bisogna difendere il bene comune, il bene pubblico che è il mercato, che è il mercato unico. Senza il mercato unico le catene di valore non funzionano, senza il mercato unico ovviamente, diciamo, il grande mercato europeo dei consumatori non funziona. Quindi vi è una doppia responsabilità da questo punto di vista di coordinamento di risposte a livello internazionale e in particolare europea. Da parte dei governi, ad esempio del loro gruppo, del Consiglio, il compito è quello di coordinarsi per difendere questo bene pubblico che è il mercato unico e dall'altra parte la BCE deve agire per evitare l'impennata degli spread e quindi per evitare che l'accesso dei Paesi al credito diventi insostenibile creando ripercussioni sui mercati. Adesso, per coloro che sono stati presenti l'ultima volta, ho parlato tanto io e in questa presentazione lascio subito la parola a Lucrezia che ha ovviamente la maggiore expertise su questi temi e quindi è un piacere lasciarle la parola. Grazie. Grazie Francesco. Allora, buongiorno a tutti intanto. Vediamo quali sono questi strumenti comuni. Innanzitutto la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea appena c'è stato sentore del virus e della dimensione della crisi che questo ha portato per le economie europee, dopo un primo tentennamento ha messo in campo un vero e proprio bazooka con vari elementi. Il primo elemento sono state misure mirate per la liquidità che fondamentalmente sono prestiti alle banche per circa 3 milioni di euro erogate a tasso negativo, un tasso che può essere fino almeno 0,75%. Si calcola, queste sono stime della BCE stessa, che questi prestiti dovrebbero stimolare credito per tutta l'area dell'euro per circa 125 miliardi. inoltre la BCE ha cambiato i criteri sulle garanzie, oggi la BCE accetta come garanzia appunto a questi prestiti anche i prestiti di imprese che beneficiano delle garanzie statali, cioè quelli di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Questo dovrebbe in particolare andare a favore delle piccole e medie imprese che sono appunto quelle che beneficiano delle garanzie statali. Inoltre ha messo in campo un acquisto di titoli di Stato e anche privati questa volta che se si cumula con il quantitative easing esistente, preesistente, ammonterà a circa un trilione per la fine dell'anno. Quindi questo il bazooka della BCE. Non possiamo pensare, in Italia molto spesso si parla della BCE come di uno strumento molto potente, effettivamente è uno strumento potente, però come se fosse uno strumento non rischioso. In realtà bisogna capire che il modo in cui la BCE stabilizza il mercato sovrano, appunto comprando debito esistente ed accettandolo come garanzia ai prestiti che fa le banche, comporta rischio. E il rischio, cos'è questo rischio? Il rischio è per esempio se accettasse come appunto collaterale debito che non ha mercato, come fa in questo momento, la BCE si assume il rischio che non venga ripagata, almeno in parte, e inoltre anche il rischio che dipende dalla variazione del prezzo del debito o della differenza tra il prezzo, quando il prezzo scade, e il prezzo di acquisto. Questo rischio è un rischio condiviso, nel senso che è un rischio condiviso nelle proporzioni della partecipazione al capitale della BCE che sono a loro volta proporzionali al PIL dei Paesi membri. Se un paese dovesse perdere accesso al mercato, per esempio fare default, la BCE per trattato deve cessare di comprare il suo debito, però in caso che questo paese dovesse ristrutturare, la BCE subirebbe una perdita, esattamente come altri creditori. Questa perdita, appunto, ancora una volta è condivisa, questa è una perdita nel caso catastrofico, l'altra perdita di cui accennavo prima è una perdita semplicemente di oscillazione del prezzo. Questi due tipi di perdite appunto sono condivise, quindi quando si dice in Europa non c'è condivisione del rischio, non c'è mutualizzazione, questo non è giusto, nel senso che semplicemente come conseguenza dell'attività straordinaria della BCE che ormai va avanti dal 2012, questo rischio appunto viene condiviso. Questa è anche la ragione per cui nella zona euro si ha molta paura della ristrutturazione del debito di un paese, perché se un paese appunto dovesse andare verso quella soluzione questo appunto serve un costo per tutti quanti e questo naturalmente costituisce un incentivo ad usare strumenti di prevenzione al default e questi strumenti sono per esempio quelli del MES di cui si è discusso molto in Italia nelle settimane scorse. Bisogna capire che anche questi strumenti comportano un rischio condiviso. Cerchiamo di capirli insieme. Allora, poiché appunto è desiderabile che al bazooka della BCE, quindi della politica monetaria, vengono accompagnate anche delle risposte di tipo fiscale, di bilancio, che sono risposte decise non appunto da un'autorità indipendente come la BCE, ma decise dai governi, sia dai ministri delle finanze che dai primi ministri. Quindi quali sono, diciamo, come sappiamo l'Europa non ha un'unione fiscale o un'unione monetaria, però ha molti strumenti da mettere in campo per cercare appunto di sostenere l'economia attraverso appunto strumenti di bilancio. Quali sono gli strumenti finora esistenti e come in questo momento l'Europa sta cercando di adattarli alla nuova eccezionalità, alla nuova emergenza. Lo primo strumento è quello della Commissione europea che ha vari strumenti possibili. Intanto la Commissione europea determina le regole e come sappiamo una delle prime cose che ha fatto in questa circostanza le ha rilassate, appunto ha interrotto le regole del patto di stabilità oltre ad avere rilassato regole dal punto di vista della regolamentazione sugli aiuti di Stato e altre regolamentazioni di tipo finanziario e bancario. Inoltre la Commissione europea ha lo strumento del bilancio comune quindi può riconvertire delle voci di bilancio per poter affrontare i problemi specifici della crisi del coronavirus. Inoltre esiste la Banca europea degli investimenti, la BEI che può erogare prestiti garantiti alle imprese. Infine, e qui lo strumento più controverso soprattutto per l'Italia c'è l'European Stability Mechanism, il meccanismo europeo di stabilità. Questo è un veicolo fondato nel 2012 che per succedere a un altro veicolo che era stato fondato nel 2010 per far fronte alla crisi greca, le SFS ed è mirato appunto ad affrontare le crisi di debito sovrano. Ha una capacità di leva di circa 410 miliardi e tra il 2010 e il 2016 l'FSF e l'SM hanno fornito prestiti in modo congiunto per circa 250 miliardi. Cosa fa esattamente questo veicolo? Il veicolo può raccogliere fondi sul mercato che sono garantiti dai paesi membri del veicolo che quindi partecipano al capitale quindi sono garantiti in modo congiunto e una volta questi fondi raccolti sul mercato possono essere prestati ai paesi con due tipi di linee di credito dei prestiti che richiedono un programma di aggiustamento e quindi delle forti condizionalità sulle riforme che i paesi devono operare e di consolidamento di bilancio. Questi sono i famosi prestiti che sono stati usati nella crisi del debito europeo per la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda e Cipro. Poi esistono anche delle linee di credito precauzionali che non sono mai state usate. L'idea di queste linee di credito è di usarle in modo preventivo per garantire l'accesso al mercato di un paese che dovesse essere in temporanea crisi di liquidità ma che ha i conti più o meno a posto e che soprattutto risponde alle regole del patto di stabilità. Anche l'accesso a questa linea di credito precauzionale richiede rispettare certe condizioni quindi una certa ingerenza se volete nella sovranità nazionale. È molto importante notare che una volta che un paese chieda un prestito o del tipo 1 o del tipo 2 e quindi accetti il principio della condizionalità se le cose dovessero precipitare al peggio questo paese può chiedere accesso al programma cosiddetto OMP Outright Monetary Transaction che è il programma messo appunto da Draghi nel 2012. Questo è un programma che una volta appunto che i paesi accettino accettino la condizionalità e quindi di scrivere di firmare un memorandum of understanding lei a quel punto ha la libertà di poter comprare i titoli di stato di quel paese in modo mirato proprio per comprimere le spread del debito sovrano di quel paese rispetto al Bund. Bisogna prima di arrivare a come questo strumento oggi si propone come si propone di modificare questo strumento oggi per far fronte alla crisi presente dobbiamo notare che a differenza di quanto non si è detto in molti commenti italiani i prestiti dell'SM comportano una certa dose di condivisione del rischio quindi di mutualizzazione perché l'istituzione si indebita sul mercato e si indebita ad un tasso molto favorevole e un tasso più favorevole di quello per esempio del cui potrebbe beneficiare l'Italia oggi e la ragione è che le garanzie che può dare l'SM sono basate sul contributo di tutti gli stati membri quindi anche di quelli diciamo più solidi come quelli dei paesi del nord naturalmente l'SM prende un rischio e il rischio è dovuto alle perdite nel caso quel prestito non venisse restituito in quel caso appunto tutti i governi contribuiscono alle perdite c'è una mutualizzazione del rischio e inoltre c'è anche una forma di diciamo di trasferimento se volete nell'operare dell'SM perché il paese che beneficia del prestito ha in qualche modo un tasso sussidiato il sussidio è zero solo se i prestiti sono interamente restituiti e se il tasso di interesse è uguale a quello di mercato allora questi strumenti che ho descritto che sono quelli esistenti precedenti alla crisi sono insufficienti per gli obiettivi di oggi questo l'hanno detto in tutti e anche Francesco e io siamo d'accordo su questo giudizio e io neanche ho scritto abbondantemente nei giornali nei giorni scorsi che cosa sono gli obiettivi di oggi prima di parlare degli strumenti bisogna chiarirsi quali sono gli obiettivi il primo obiettivo è quello di condividere in parte il costo della crisi se questo costo fosse asimmetrico come ha suggerito Francesco cioè lo shock è uno shock uguale per tutti ma gli effetti sono diversi a seconda delle fragilità pregresse dei paesi o anche la sfortuna in un certo senso bisogna avere dei meccanismi per poter effettuare dei trasferimenti temporanei da un paese all'altro questo è un principio di solidarietà il secondo obiettivo è di far sì che i paesi possano continuare a difendere la salute pubblica e l'economia con misure di emergenza senza perdere accesso al mercato queste misure comportano fare debito se il debito è rischioso c'è un rischio appunto di perdere l'accesso al mercato gli strumenti europei devono garantire l'accesso al mercato anche dei paesi più esposti al rischio e per questo abbiamo bisogno di strumenti di debito con maturità lunga inoltre il terzo obiettivo dovrebbe essere quello di rilanciare l'unione dopo la crisi avremo bisogno di ricostruire ed è necessario una certa comunalità dell'azione anche per impedire che certi paesi siano appunto costretti a chiudere le frontiere mentre altri no e questo perché questo dovrebbe questo distruggerebbe questo bene comune se volete del mercato unico ma la ricostruzione è necessaria anche per affrontare i nuovi problemi che porrà appunto la riapertura e in particolare la distruzione di alcuni settori importanti dell'economia che sono legati attraverso le filiere tra i paesi quindi l'approccio siccome ci sono appunto tre obiettivi diversi è ragionevole avere un approccio che comporti diversi strumenti invece di puntare su un unico bazooka come si è sentito da molte da molte parti in Italia vogliamo l'Eurobond vogliamo l'Eurobond possiamo forse pensare ad un approccio multidimensionale usando vari strumenti in parte adattando gli strumenti già che già abbiamo che ho appena descritto anche per questo c'è una una ragione anche molto pratica perché gli strumenti che nelle istituzioni esistenti sono diciamo più veloci nel mettere in campo queste migliorature di emergenza però forse bisogna andare anche oltre quindi vorrei descrivere ora appunto qual è l'accordo a cui l'Eurogruppo cioè la riunione dei ministri delle finanze dei paesi dell'Eurozona ha raggiunto il 9 aprile questo accordo costituisce una raccomandazione per il consiglio cioè il consesso invece in cui siedono i primi ministri che si terrà il 23 aprile e vediamo quindi qual è il compromesso raggiunto e cerchiamo di giudicarlo insieme questo compromesso ha cinque componenti la prima è il coronavirus investment initiative and support instrument questo è lo strumento della commissione che appunto ha deciso di di dare più flessibilità agli interventi degli stati sia per quanto comporta appunto la partecipazione in equity sia per quanto comporta le regole del fatto di stabilità di alcune regolamentazioni finanziarie il secondo elemento è il programma SURE che anche questo è un programma della commissione ed è un programma nuovo di cui parlerò in un istante a favore della disoccupazione temporanea poi c'è il fondo di garanzia europeo della BEI che è l'espansione di uno strumento esistente appunto sono prestiti garantiti c'è il pandemic crisis support che è una nuova linea di credito dell'SRM che non è condizionale è dedicata a case legate al coronavirus ma non è condizionale come le linee di credito tradizionali e poi c'è l'idea di un European Recovery Fund per la ricostruzione che però è ancora tutto da discutere questo sarebbe uno strumento nuovo quindi ci sono cinque strumenti e diciamo il numero 2 3 4 e 5 dovrebbero corrispondere a quei tre obiettivi che vi ho illustrato prima vediamo appunto l'Investment Initiative and Support Instrument è quello che è stato subito messo in campo che è l'uso di 37 miliardi del bilancio dell'Unione Europea da pescare dal fondo di coesione territoriale l'allargamento dello scopo del fondo di solidarietà per incontrare la crisi pandemica come obiettivo 800 milioni per i paesi più colpiti e 2 miliardi di fondi per emergenza sanitaria sempre da attingere dal bilancio dell'Unione il mio commento è bene ma queste non sono nuove risorse è semplicemente una riallocazione di fondi già stanziati a bilancio quindi questo non è lo strumento fondamentale il secondo invece è uno strumento molto innovativo SURE è uno strumento della commissione consiste in un prestito temporaneo garantito per il supporto temporaneo alla disoccupazione per esempio la cassa integrazione che abbiamo in Italia o il Corbite che hanno in Germania il vantaggio qui si tratta di un prestito cioè di un non di un regalo ma di un prestito ma il vantaggio è ancora una volta un po' come nel caso dell'SM perché grazie alle garanzie del tasso di interesse più basso di quello del mercato le garanzie sono di 25 miliardi e si può arrivare fino ad una leva di 100 miliardi questa è un'interessante innovazione a mio avviso i fondi non sono sufficienti si potrebbe pensare più in là forse di aumentare la capacità di leva di questo fondo e soprattutto bisogna ragionare sulla maturità del prestito cioè sull'orizzonte temporale quel prestito debba essere restituito discuterò di questo punto della maturità più tardi perché questo è un punto molto importante anche nel giudicare l'operato dell'SM il terzo strumento appunto il fondo di garanzia sono 25 miliardi di garanzie dei paesi membri da usare per mobilizzare 200 miliardi di leva per finanziare soprattutto le piccole e medie imprese questi sono prestiti ad imprese non a paesi uno strumento importante anche questo non sono tantissimi soldi però uno strumento molto importante su cui già c'è grande esperienza operativa veniamo al punto 4 cioè l'SM che è appunto quello più controverso l'idea nuova è quella di avere una nuova linea di credito tipo appunto l'enhanced concessionary credit line di cui ho parlato prima però la novità è che questa linea di credito sia senza condizionalità quindi questo quanto si è detto in Italia che questo ci avrebbe portato la troica a casa non è vero questa linea di credito non ha condizionalità il problema però è che questo prestito è un prestito che può arrivare da quanto si capisce fino a tre anni non è chiarissimo fino a quanto possa arrivare ma il rinnovamento di questo prestito nella fase 2 le condizioni diventerebbero più stringenti che diventerebbero le normali condizioni dell'enhanced concessionary credit line questo se la situazione del paese fosse molto fragile potrebbe aprire la strada ad un memorandum of outstanding per appunto ottenere i fondi della Banca Centrale Europea attraverso il programma OMT l'uso di questo fondo deve essere dedicato esclusivamente a spese legate alla crisi pandemica e può essere però arrivare fino al 2% del PIL a mio avviso l'Italia non avrebbe dovuto dire assolutamente no non attingeremo mai a questo fondo perché sono dei soldi a tassi molto vantaggiosi e invece l'Italia avrebbe dovuto fare diciamo opporre il problema appunto della maturità nel senso quando questi prestiti sono veramente importanti per un paese in difficoltà come immagino probabilmente sarà l'Italia nei prossimi anni per via dell'aumento del debito che la spesa relativa al coronavirus comporterà il problema è non solo avere tassi bassi ma anche avere una maturità molto lunga una maturità breve quindi un prestito che debba essere rinnovato può creare stabilità del mercato quindi questo è un punto molto importante che potrebbe essere oggetto di negoziato è interessante che l'Eurogruppo ha rimasto molto ambiguo appunto sulla maturità o sulle condizioni per il rinnovamento del prestito e immagino che su questo appunto ci sarà ancora discussione i problemi di questo accordo in sintesi quali sono i finanziamenti freschi potenzialmente sul tavolo sono 500 miliardi di questi appunto tra SM Bay eccetera più che vanno a sommarsi con i 750 miliardi della BCE sono tanti soldi perché si parla appunto di più di un trilione però probabilmente non sufficienti per il tipo di problema che abbiamo sul tavolo i problemi ci sono comunque diciamo non sono nulla ecco sono più di un trilione c'è un problema ci sono però dei limiti su come appunto il pacchetto sia stato confezionato appunto il primo su cui insisto è questo della maturità del prestito del fondo salva stati per le ragioni che appunto ho detto prima e poi soprattutto se pensate agli obiettivi ai tre obiettivi che avevo illustrato prima manca uno degli strumenti necessari cioè un fondo per la ricostruzione il 23 alla riunione del consiglio ci sarà sul tavolo una proposta francese e una proposta della commissione in questo senso si parla di un fondo di circa il 2-3% del PIL si sta in questi giorni discutendo se la commissione abbia la possibilità legale di emettere titoli per finanziarsi sul mercato con garanzia del bilancio della commissione oppure se questo debba avvenire con un veicolo apposito che questo sarebbe più se si andasse verso la soluzione del veicolo apposito questo sarebbe più vicino alla proposta francese discutiamo un momento di queste due proposte la proposta francese appunto è un veicolo speciale che emette Corona Bond cioè titoli del veicolo garantiti congiuntamente da tutti i paesi questo veicolo poi usa i soldi raccolti dall'emissione del Corona Bond per finanziare in tutta l'Eurozona progetti specifici legati alla pandemia in questo modo i paesi non si indebitano almeno non direttamente si indebita il veicolo e c'è di fatto un trasferimento perché i paesi più colpiti possono spendere di più il progetto della commissione invece consiste in questo la commissione si indebita emettendo titoli tipo Corona Bonds ma la commissione può usare i fondi raccolti solo per fare prestiti a paesi su progetti mirati il debito dei paesi aumenta sebbene questo è un debito che costa poco perché essendo garantito da tutti appunto non si paga la spread qual è la differenza tra il progetto della commissione e quello che abbiamo già con il fondo salva stati con i prestiti del fondo salva stati come appunto nel progetto della commissione il debito dei paesi che attingono alla linea di credito è nuovo debito dei paesi quindi il vantaggio è nel tasso di interesse quindi al fine questo veicolo avrebbe un vantaggio e un implicito o diciamo mutualizzazione e trasferimento molto simile a quello della linea decreto dell'SEM anche se appunto si chiamerebbero corona bond ma tanto per capire le differenze tra queste varie terminologie la nostra posizione qual è è giusto l'approccio degli strumenti multiplici non è giusto demonizzare la nuova linea di credito dedicata dell'SEM bisogna negoziare sul punto della maturità con una maturità a 30 anni il trasferimento implicito è potenzialmente enorme per darvi un'idea in Grecia si calcola che sia pari al 40% del PIL del 2011 vi mostro un grafico questi sono i prestiti in Grecia dal 2011 in poi fatti dall'SEM e dal suo predecessore l'FSF la estensione all'inizio questi erano prestiti di 5 anni che poi sono stati estesi fino a 30 anni questa estensione della maturità del debito e il ribasso del tasso di interesse marginale spiega che mentre all'inizio questo trasferimento questo prestito di fatto costituiva un trasferimento pari allo zero dai paesi che prestavano alla Grecia una volta che si guarda a lungo periodo e quindi alla grande spalmamento se volete della restituzione di questi prestiti nell'arco di 30 anni i calcoli dimostrano che questo è di fatto un sussidio del 40% quindi che se ne dica in Grecia è vero che la Grecia è stata ammazzata da una fortissima condizionalità del programma però è stata in realtà fortemente sussidiata dall'Unione è importante anche capire come concepire meglio il fondo per la ricostruzione qui ancora i dettagli non ci sono nel senso che si sta negoziando proprio in questi giorni e si contenerà in margine a negoziare per le prossime settimane e ci sono varie idee sul tavolo per esempio quella di finanziare le imprese in crisi per via del coronavirus o per esempio le piccole imprese legate al turismo questa è un'idea oppure finanziare nuovi investimenti per la sostenibilità che implicano anche consolidamento settoriale per settori in cui c'è un eccesso di capacità è chiaro che i progetti saranno paneuropei non saranno specifici ai paesi ma è chiaro che il diavolo nei dettagli bisognerà capire esattamente come questi programmi saranno effettivamente messi in opera noi rischiamo in Italia di vedere arrivare molti soldi e di non sapere come utilizzarli attenzione l'Italia non ha un buon record nel sapere utilizzare i fondi europei e potremmo trovarci al paradosso di essere beneficiari di molti fondi e di appunto di sperperarli in mille progetti inutili questo sarebbe veramente tragico a mio parere per concludere è vero che siamo una federazione interfetta con uno strumento comune quello monetario ma senza strumenti comuni che sono quelli di bilancio e fiscale ma e la politica degli interessi nazionali molto spesso domina ma l'Europa ha sempre in realtà dimostrato creatività quindi in realtà abbiamo visto che in gran parte la maturizzazione del debito già c'è e ce ne sarà ancora con i nuovi strumenti nuovi strumenti sono stati creati e sono ancora altri sono sul tavolo è chiaro che siamo legati non solo appunto da un imperativo di solidarietà ma anche dal fatto che i rischi di un paese hanno effetto su tutti gli altri però appunto gli elettori nazionali controllano le scelte del proprio paese e non quelle del paese magari più a rischio questo crea un'obiettiva tensione però ancora una volta si dimostra che o per interesse o per solidarietà c'è un gran attivo a trovare risposte comuni la vera sfida sarà costruire nuove istituzioni che lo rendano possibile in modo meno traumatico e che siano legittime dal punto di vista democratico grazie con questo concludo grazie Lucrezia Francesco stanno iniziando ad arrivare diverse domande quindi diciamo vado più o meno in ordine di come sono arrivate la prima è come spiegate che la borsa sia ora tranquilla pur con una previsione di caduta del PIL intorno al 10% posso provare a rispondere io la borsa tranquilla in questo momento però solitamente i mercati cercano di incorporare molto velocemente le informazioni di cui posseguono e quindi la borsa è caduta prima è già caduta diciamo adesso sembra un apparente diciamo normali non sembra di esserci i crolli ma quello c'è stato prima ancora prima delle previsioni ufficiali quando i mercati si sono resi conto del fatto che questa stava per diventare una crisi epocale del resto sia la volatilità sia il calo degli indici fanno pensare a qualcosa di molto molto grande comunque diciamo la borsa non è un grande un indicatore molto stabile di quello che succede nell'economia reale normalmente quello che vediamo oggi è una grande volatilità che riflette l'incertezza e probabilmente c'è un certo ottimismo in giro dal fatto che gli strumenti di politica economica che sono stati messi in campo sono abbastanza potenti quali potrebbero essere le condizioni imposte all'Italia in caso di utilizzo del MES non ci sono condizioni imposte all'Italia come ho spiegato questa è stata una demagogica campagna di Di Maio in particolare e il prestito del MES è senza condizioni quali sarebbero i parametri per stabilire le priorità di erogazione dei vari strumenti ai vari paesi ma dunque queste linee sono appunto alcune quella del Sure che è quella della Commissione è legata all'utilizzo della casa integrazione quindi i paesi che hanno più bisogno più disoccupati temporanei hanno diciamo la priorità nell'attingere queste risorse però le risorse sono limitate appunto a 100 miliardi e poi la linea invece la linea del MES è una linea che dovrebbe andare a coprire le spese che sono legate ai costi della crisi soprattutto dal punto di vista della salute pubblica e collegati c'è una certa vaghezza su esattamente quali sono appunto le spese considerate accettabili comunque tutto quello che è legato al costo della pandemia mentre invece quelle del nuovo fondo appunto che ancora però non è stato concordato sono spese per nuovi progetti e per supporto a settori particolari per la ricostruzione in un mondo che impiega risorse ovunque per scopi analoghi a quelli europei con petrolio bassissimo chi saranno i sottoscrittori della nuova porzione degli strumenti di debito? ma diciamo questi sono non mi preoccuperei troppo nel senso che questi sono strumenti di debito a bassissimo rischio proprio perché sono garantiti dagli insieme dei paesi nel mondo c'è un'enorme liquidità come sappiamo che è una grande sete di safe asset quindi di titoli con basso rischio proprio perché c'è una grande avversione al rischio in questo momento e quindi questi titoli questi veicoli garantiti dovrebbero essere appunto il cosiddetto safe asset che i mercati internazionali cercano ok aggrego un paio di domande sulla BEI in quanto tempo arriverebbero i fondi direttamente alla SME quali garanzie dovrebbero fornire e che cosa dovrebbero chiedere concretamente gli operatori del turismo ma dunque da quanto capisco la BEI ha già una grande esperienza di queste appunto di questi prestiti garantiti per l'Italia questo vengono veicolati attraverso la Cassa Depositi Prestiti se capisco bene ora non so tutti i dettagli però diciamo credo che siano che siano abbastanza veloci da mettere in campo sono sono garantiti appunto dall'insieme dei europei e dal punto ordinatico dell'erogazione credo che passino attraverso il nazionale credo che sia la Cassa Deprestiti o qualcosa vicino alla Cassa Depositi e Prestiti cosa pensi della proposta anche di autorevoli esponenti del mondo finanziario che suggerisce all'Italia di emettere titoli di Stato dedicati agli italiani incentivati fiscalmente per supportare il fabbisogno finanziario italiano non mi dispiace la proposta cioè l'idea di mettere le mani su questo risparmio privato italiano che abbonda e che non non veicola diciamo verso né verso né verso diciamo lo fabbisogno dello Stato né verso investimenti produttivi la vedo complessa per due ragioni primo perché siamo in un mercato integrato quindi non vedo come è possibile vendere titoli esclusivamente agli italiani cioè il principio dell'Europa è appunto l'integrazione ai capitali e quindi non capisco dovrebbe bisognerebbe pensare degli incentivi fiscali di qualche tipo appunto credo che forse questo sarà possibile come misura di emergenza potrebbe funzionare e non è troppo diversa da una patrimoniale alla fine però diciamo questo è quello che si chiama la repressione finanziaria cioè si chiede agli italiani di finanziare il debito pubblico naturalmente si potrebbe pensare che quel denaro sarebbe più avrebbe un destino diciamo più produttivo se fosse messa a finanziare investimenti più rischiosi e più diciamo investimenti di altro tipo come misura di emergenza è sicuramente qualche cosa a cui si può riflettere se pensiamo al Giappone di fatto c'è una situazione di questo tipo in cui i giapponesi detengono quasi il 100% del loro debito una domanda invece sullo scenario più allargato con gli USA distratti dalle loro necessità in caso di ritardo o in concludente intervento comune europeo la posizione della Cina che sta muovendosi in maniera anticipata sul ciclo che rischi ci può far correre? ma diciamo più che l'Europa mi preoccuperei mi preoccuperei della dell'attenzione geopolitica tra Stati Uniti e Cina e sicuramente la Cina in questo momento ha un vantaggio perché se vedete le curve appunto della malattia del del contagio e anche dei decessi precari per capita in Cina l'impatto del virus è stato molto minore in termini appunto se si divide per la popolazione rispetto a quanto non sia stato in Europa o come si prevede sia negli Stati Uniti quindi la Cina infatti gli indicatori economici assumendo che siano veritieri già fanno vedere appunto una ripresa in Cina cioè il 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 peggio è passato quindi è vero che la Cina potrebbe uscire relativamente molto meglio da questa crisi rispetto sia agli Stati Uniti che l'Europa naturalmente questo in un certo senso se ci fosse cooperazione internazionale questo sarebbe bene perché la Cina è un motore per l'attività economica sia degli Stati Uniti che dell'Europa nel momento in cui invece questa cooperazione viene a mancare soprattutto con gli Stati Uniti tra Cina e Stati Uniti questo potrebbe creare tensioni anche economiche naturalmente resta da capire qual è la posizione dell'Europa in mezzo a questa tensione Stati Uniti e Cina finché l'Europa deve avere una posizione diciamo ancora tendista in cui non si è capito appunto se vuole un rapporto privilegiato con la Cina oppure continua a pensare al suo alleato fondamentale che sono gli Stati Uniti questo dipenderà naturalmente anche molto da come andranno le elezioni americane a novembre C'è un po' di scetticismo come hai detto tu sulla capacità di utilizzare questi fondi europei avendo di mezzo un filtro statale quali potrebbero essere dei modi per essere sicuri che queste risorse siano impiegate e vadano i destinatari in maniera efficace? Ma diciamo sulla casa integrazione non mi sarei troppo a preoccupare perché la casa integrazione è uno strumento insomma che è ben collaudato è vero che ci sono probabilmente dei ritardi che in Italia ho letto ci sono dei ritardi nell'erogazione della casa integrazione e comunque diciamo non vedo cioè questi sono problemi italiani insomma di ritardi italiani che a cui non so se c'è una risposta adesso speriamo nella nuova task force di Colau che risolverà una serie di questi problemi diciamo di implementazione proprio e con l'ABEI appunto bisogna capire esattamente come funziona forse probabilmente la casa le posi dei presidi è un veicolo più efficiente che la macchina dello Stato quindi potrebbero essere soldi che arrivano più in fretta in tasca alle piccole imprese e per quanto riguarda il fondo il fondo salva stati invece questi sono soldi che vanno direttamente nella casa dello Stato quindi è un altro problema Francesco tu sì per quanto riguarda l'aiuto alle imprese ovviamente diciamo il veicolo da preferire è quello degli Stati nazionali se pensiamo la riunione del Consiglio è prevista per il 23 e lì non è chiaro cosa succederà quindi abbiamo detto l'ultima volta che il problema chiave in queste misure è anche non solo diciamo l'entità ma soprattutto la velocità e su questo diciamo altri Stati europei a livello di politica fiscale sono molto più veloci dei nostri temo che diciamo il ruolo dell'Europa da questo punto di vista è importante ma sia più da vedere in una fase successiva a quella dell'emergenza che c'è in questo momento adesso in questo momento in cui le imprese rischiano di non riaprire più c'è scetticismo sul fatto che il mess sia senza condizioni è una è uno scenario diciamo stabile oppure in un momento successivo potrebbero cambiare queste condizioni no nella fase 2 sì nella fase 1 le condizioni non ci sono è stato scritto nero su bianco quindi non c'è nessuna ambiguità nella fase 2 quando il prestito arriva a maturazione allora c'è lo stesso tipo di condizionalità che c'è nella linea di credito o che si chiama appunto enhanced credit credit line quindi per questo io penso che sia importante trattare sulla maturità del debito perché più lunga è la fase 1 meno più in là scatta la condizionalità bene in un'Europa solidale si può sostenere una differenza dei tassi di interesse sul debito sovrano che tra l'altro ha un impatto sulla competitività delle imprese dei singoli paesi e sulla loro qualità della vita direi di sì perché l'Europa come anche d'altro canto negli Stati Uniti con il debito subnazionale degli stati hanno dei rating diversi perché il rating riflette un rischio altrimenti avere lo stesso rating con rischi molto diversi implicherebbe un sussidio permanente da parte dei paesi meno rischiosi verso quelli più rischiosi ucciderebbe qualsiasi incentivo a tenere i conti a posto quindi direi che anzi è molto importante che appunto questi segnali di mercato che sono le differenze tra i prezzi che riflettono il rischio continuano ad esistere perché funzionano da incentivo o funzionano con un incentivo che deve esserci dove invece esiste il problema che in situazioni di grande tensione come quella di oggi o quella che fu nel 2011 a questo punto i mercati possono diciamo speculare sulla differenza tra paesi e testare quindi la volontà delle istituzioni europee in primo luogo la BCE di intervenire questo crea una situazione tanto più i mercati chiedono una retribuzione più alta per l'investimento nel debito di uno stato X diciamo l'Italia tanto più l'Italia ha una difficoltà a rifinanziarsi tanto più il mercato quindi scommette contro l'Italia tanto più la difficoltà aumenta quindi questo è diciamo dalle piccole differenze iniziali possono nascere delle grandi differenze come effetto della speculazione in questo caso è giusto che la BCE intervenga per come prestatore in ultima istanza per calmare questa speculazione ed è questa la ragione per cui ci sono questi nuovi strumenti messi in campo dal 2012 a questo fine ma in una situazione diciamo di normalità ciclica è giusto che i prezzi i tassi di interesse in questo caso riflettano differenze di rischio e gli imprenditori italiani è vero purtroppo pagano il costo di uno Stato che da 40 anni non riesce ad affrontare il problema del suo debito ci sono un po' di domande sulla posizione che l'Italia sta tenendo con l'Europa nel negoziato pensate sia quella la posizione avuta fino ad oggi un elemento di diciamo uno strumento politico che quindi alla prova dei fatti cambieranno posizione saranno più morbidi oppure che si manterrà questa chiusura verso il mess in maniera rigida ma diciamo io sono ho scritto anche sul Corriere che sono assolutamente penso che la posizione dell'Italia sia stata sbagliata dall'inizio perché c'è stata un'illusione un po' alimentata da alcuni pezzi dello schieramento politico italiano ma anche forse da un po' sprovveduti commentatori che un eurobond e una motorizzazione totale completa non condizionale fosse sul tavolo cosa che non è mai stata anche perché non è possibile per via dei trattati e i trattati non si cambiano in un'emergenza quindi da subito è apparso chiaro l'ha spiegato anche molto bene Gentiloni una decina di giorni fa sul Corriere appunto che si doveva andare verso una un insieme di strumenti e che quindi fissarsi sul o l'eurobond o nulla era una posizione negoziale sbagliata anche perché questo è un tavolo con 19 persone e quindi è importante costruire delle eleanze per cui anche nel negoziato contro la posizione più dura che quella dell'Olanda è importante comunque portare anche un pezzo del consenso tedesco verso delle posizioni più ragionevoli e in questo modo invece l'Italia ha fatto muro e si è isolata rispetto anche a posizioni più centriste diciamo insomma più meno estreme che quella olandese naturalmente questo è stato fatto anche per ragioni di politica interna nel senso che il Movimento 5 Stelle aveva sempre detto che il MES era il diavolo questo ancora prima della crisi quindi sicuramente non poteva dire sì adesso andiamo usufruiamo della linea di credito del MES e questo è stato basato su una grande disinformazione naturalmente queste cose sono molto complesse anzi mi scuso per avervi annoiato oggi con tutti questi dettagli però bisogna capire esattamente cosa sono questi strumenti per capire anche fino a che punto ha senso utilizzarli e adesso mi sembra che ci sia stato un po' un rinsavimento nazionale perché vedo che dai giornali che insomma molti cominciano a dire ma in fondo sì perché no andiamo a vedere eccetera comunque il vero grande negoziato sarà sul fondo per la ricostruzione bene cosa rispondi a chi dice che sei un'euro ortodossa diciamo sono meno ortodossa del primo ministro olandese Rutte però sono sicuramente un'europeista riformatrice direi più che ortodossa l'Italia senza l'Europa e senza l'ABC in questo caso sarebbe andata se fosse stata fuori dell'euro sarebbe già in default bene grazie penso che abbiamo tentato di rispondere a livello macro alla maggior parte degli argomenti posti se non abbiamo risposto a qualcuna delle vostre domande scriveteci per il resto insomma che Lucrezia sia un'europeista convinta lo leggete sui giornali quindi insomma lo stimolo qui era cercare di vedere anche un pochino più a 360 gradi al di là delle polemiche che si leggono sulla nostra stampa grazie avete qualcosa da aggiungere relatori? niente grazie a voi ci vediamo giovedì grazie a voi ci vediamo giovedì alle 6 per la giornata conclusiva arrivederci a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.